Amici sportivi, amici fantarinatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Parliamo oggi di Magic Go, vi presento una demo molto easy, molto facile da capire. Entrate in funzione, chiedi all'esperto, vi esce direttamente la pagina del veterano con tante statistiche. Voi entrate e avete accesso direttamente alle domande che sono di due tipi, o premium o standard. Le prime sono per gli abbonati, le standard sono aperte a tutti. Scegliete la vostra domanda, una volta inserita la rosa, scegliendo appunto chi schierare. In questo caso la domanda è molto semplice, tra Skorupski e Silvestri. Vi faccio un'analisi approfondita, vi metto la mia nota con la mia motivazione e in tempo quasi reale avete tempo e la risposta al vostro quesito con anche l'evidenziazione della nota, della motivazione e anche dei giocatori prescelto. Tantissime domande, siamo arrivati a 53 mila domande su Magic Goal con un indice di recensione veramente altissimo, è importante e fondamentale abbonarsi. C'è un'offerta a lancio fino al 19, quindi fino a domani è 3,99 euro. Approfittate perché con questa offerta avrete diritto ad avere l'area premium fino a fine campionato. quindi è davvero superfluo dirvi quanto sia importante per vincere il dominale e il fantacalcio. A presto, a Venterano, ciao ragazzi!